Il terremoto in Adriatico settentrionale del 9 novembre è stato particolarmente violento, manitudo 5.7 della scala Richter, però fa parte della storia sismica di quest'area del nostro paese. Basti pensare che nel 1930 vi è stato un terremoto di manitudo probabilmente simile, localizzato però nella stessa zona, quindi chiamato il terremoto di Senigallia, che però fece circa una ventina di vittime e il motivo era che probabilmente l'epicentro era più vicino alla costa. Infatti in questo caso l'epicentro è localizzato a 30-35 km a largo di Fano. Quindi non è sorprendente avere terremoti in queste aree. Detto questo, i terremoti in quest'area sono dei terremoti che fanno parte di quella categoria legati a un regime che noi chiamiamo compressivo, cioè sono faglie inverse, dove appunto delle rocce, la faglia possiamo immaginare sia al dorso della mia mano, montano su altre e risalgono verso l'alto, diciamo legate a spinte compressive. Questi terremoti in Italia sono generalmente localizzati al fronte delle catene, quindi siamo al fronte della catena alpina, quindi per esempio tutto il nostro nord-est, dal Friuli per arrivare sostanzialmente fino al lago di Garda, il Veronese, possono essere interessati da questi terremoti, come è stato il terremoto del 76 del Friuli e il terremoto del 1695 di Asolo, stimato in un magnitudo 6,5, sono terremoti molto più grandi di questo, per di più in terraferma. Altri terremoti con queste caratteristiche li troviamo al fronte della catena penninica e quindi in pianura padana, come è stata la sequenza sismica del 2012, con terremoti che hanno raggiunto anche il 6.0, che forse vi ricorderete, e 6.1, e hanno avuto il loro carico di morte purtroppo. Le Marche sono particolarmente sfortunate perché hanno due tipi di sismicità, questa qui che in genere interessa la costa dell'Anconetano, appunto Senigallia andando verso nord, e poi terremoti invece di regime distensivo, dove invece i blocchi, le faglie, sono orientate diciamo così e ci sono dei blocchi che scendono rispetto all'altro. E questi sono i terremoti classici della catena penninica, tra cui quello più recente che ha interessato le Marche occidentali e la sequenza di Norcia del 2016 con appunto il terremoto dell'agosto 6.0 del 2016 e poi il 6.5 dello stesso anno. Quindi un terremoto molto violento che ha portato molti danni, per fortuna non troppe vittime rispetto a quanto è accaduto invece sul versante abruzzese con Amatrice dove le vittime furono 300, però moltissimi danni e tant'è vero che l'Università di Camerino è stata gravemente danneggiata. Ora, questo serve a ricordare comunque un terremoto di questa magnitudo, per fortuna avvenuta a largo, serve a ricordare che il nostro paese è sismico e quindi occorre costruire sempre rispettando la normativa in vigore e magari anche spendendo soldi per rinforzare le nostre abitazioni. Non necessariamente questo ha un costo esagerato. Un'altra cosa che tengo a dire, visto che siamo al Dipartimento di Geoscienze, è che noi svolgiamo una ampia attività di ricerca, anche a fini applicativi nello studio dei terremoti, che spaziano dalle ricerche che riguardano come sono fatte le faglie, la struttura delle faglie, l'architettura, le faglie che sono il motore dei terremoti, che appunto sono la struttura che consente la propagazione delle rotture sismiche all'interno della crosta terrestre e quindi l'emissione delle onde sismiche. Quindi noi studiamo le faglie con diversi approcci, sicuramente andando sul terreno, come chiamiamo in gergo, vedendo l'esposizione di queste strutture anche in aree desertiche, dall'Australia al deserto di Atacama, in Cile, ma anche in Appennino, in alta montagna, dove le faglie sono esposte, sono faglie attive in questo caso, in Appennino centrale, oppure anche nelle Alpi, dove si tratta di faglie magari antiche, cioè che producevano terremoti 30, 40, 50, 100 milioni di anni fa, però l'erosione da una parte, il sollevamento legato all'orogenesi, alla formazione delle catene montuose, hanno portato in superficie. Quindi noi possiamo vedere proprio quelle strutture che a 6, 7, ma anche 40, 80, fino addirittura a 40, 80 chilometri di profondità producono terremoti. Pensate, questo terremoto dell'Adriatico, l'ipocentro, cioè dove nasce il terremoto, era localizzato a una profondità di 7, 8 chilometri. Bene, noi studiamo proprio rocce che vengono da queste profondità, faglie che vengono da queste profondità. E lo facciamo con un approccio, chiamiamolo multidisciplinare, che comprende appunto sia studi di terreno, ma anche raccogliamo dei campioni, li studiamo con diverse tecniche, con tutte le attrezzature che abbiamo in questo dipartimento. Abbiamo una serie di microscopi elettronici e altre tecniche microanalitiche uniche nel panorama nazionale e direi anche quasi in Europa, per lo studio dei minerali che si formano in queste condizioni particolarissime di deformazione e che controllano la propagazione della rottura. Non solo, ma abbiamo una macchina unica in Europa che consente di ricostruire, riprodurre quello che viene in una faglia a 5-6 chilometri di profondità, in presenza anche di fluidi, perché nelle faglie passano, sono dei condotti per fluidi, generalmente acqua e CO2, ma anche a volte anche idrocarburi. E quindi noi siamo in grado di riprodurre tutte queste condizioni qui nel nostro dipartimento con delle apparecchiature sperimentali. E questi prodotti che generiamo in laboratorio simulando il ciclo sismico, possiamo studiarli con queste tecniche microanalitiche e confrontarle con i prodotti naturali, quindi vedere che quello che facciamo in laboratorio ha un senso. Ma perché ci serve questo? Perché noi, dagli esperimenti di laboratorio, siamo in grado di ottenere dei dati, dei dati che riguardano come le rocce rispondono durante il ciclo sismico. Sono informazioni fondamentali per capire come si comporta anche, per esempio, un serbatoio sotterraneo dove vogliamo produrre energia geotermica, iniettando fluidi, estraendo fluidi. E quindi non riguarda soltanto un aspetto della conoscenza di base, a mio avviso fondamentale, se vorremmo un giorno per poterli prevedere, dobbiamo sapere qual è la fisica di un terremoto. Quindi questo sicuramente, ma anche per aspetti applicativi, soprattutto in una visione di uno sviluppo sostenibile che noi dobbiamo assolutamente portare avanti in considerazione dell'impatto che sta avendo l'uomo sull'ambiente. Basti pensare alle emissioni di CO2 e altro. Quindi questo Dipartimento copre questi aspetti, ma non solo. Abbiamo dei colleghi che si occupano di come i terremoti parlano tra loro nelle sequenze sismiche e sono dei sismologi che lavorano presso il nostro Dipartimento di assoluto livello mondiale, ma anche come poi si propagano le onde e quindi che effetti hanno sulle strutture. E quindi a questo punto copriamo direi tutti gli aspetti perché abbiamo anche dei colleghi e colleghe che si occupano degli effetti delle onde sulle strutture, sono degli ingegneri strutturisti. e quindi quella parte fondamentale dello studio dei terremoti che riguarda il rischio. C'è l'esposizione che abbiamo noi esseri umani e noi, le nostre abitazioni, le infrastrutture, ponti, dighe, non solo le abitazioni, le scuole, sono tutte cose che vengono studiate qui in questo Dipartimento che lo rende da questo punto di vista unico nel panorama nazionale, di avere una tale copertura, direi, globale per quanto riguarda lo studio sia fisico della sorgente, geologico della sorgente sismica, la propagazione delle onde e gli effetti che hanno sulle strutture. Quindi si parla anche di microzonazione sismica e spero che queste cose verranno prese in considerazione da voi studenti, soprattutto, e da voi giovani studenti e studentesse.